e benvenuti ragazzi bentornati al mio canale e quest'oggi siamo su un nuovo video raga vi state chiedendo di Jean-Claire Ntenda o Tenda non lo so come io qua, come cazzo, come lo chiamate comunque raga vi ringrazio tantissimo per il video uscito chiede di Diego Demme a Napoli ovvero chi è Diego Demme, il nuovo giocatore del Napoli vi ringrazio tantissimo, mi sta arrivando a 6.000 visualizzazioni mi dispiace per i dislike, comunque tralasciando questo discorso raga allora Tenda è 11-7 anni, classe 2002, terzino sinistro del Nantes della primavera del Nantes, però raga, la Juventus l'acquista, lo manda in primavera lo fa crescere lì, quindi tantissima roba sarebbe, cioè è tantissima roba questo acquisto Tenda è un giovane di prospettiva, cioè ha 17 anni raga, ha 17 anni e già gioca per il Nantes primavera, pure andrà alla Juventus primavera, quindi, un giocatore davvero promettente era un ex attaccante, però l'hanno trasformato in terzino sinistro, non so perché, però l'hanno trasformato in terzino sinistro però penso che si abbia a fare anche l'esterno sinistro qua, quindi mi avete chiesto di parlare e io puntualmente ve ne voglio parlare quindi la Juventus ha preso lui, io sono davvero contento che abbia preso un gioco di prospettiva non so se poi lo convocherà Maurizio Salì per la prima squadra, non lo so, però è tutto da vedere comunque raga, il video è molto corto, quindi, se vi è piaciuto lasciate un bel like farmi sapere questo commento vostro, iscrivetevi al canale, apre la campanina e ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti.